ci prepariamo per questa diretta che sta per prendere l'avvio azione necessaria chiudere le applicazioni inutilizzate ok chiudiamo tutto perché evidentemente se no c'è un disturbo io spero bene spero che si veda bene che si senta bene facciamo in modo di poter anche vedere come si fa qui così ok così io vedo anche se c'è qualcuno che scrive vedo che ci sono tre persone collegate siamo un pochino in anticipo ma intanto devo verificare che stia funzionando tutto nel modo corretto bene adesso proviamo a vedere che cosa come va anche il volume se sentite tutto come si deve se c'è qualcuno che è presente che vuole provare a dare un segnale rispetto al funzionamento delle macchine vedo che si stanno già collegando altre persone buonasera c'è gabriella bene mi fa piacere dice che si vede si sente bene questa è una buona notizia poi c'è paola adesso le prime persone riesco a salutarle poi le altre temo di no bene alessandra il lunga mar mar tutto ok si sente bene mi fa piacere ok 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 allora vediamo un po' subito toccato la cosa sbagliata dunque paola poi francesca eugenio e si stanno aggiungendo persone manca ancora qualche minuto ecco c'è anche nicola nostro nicola ferrentino che si quindi il factotum è sempre presente sempre attivo fra pochi minuti iniziamo questa questa diretta vedo che tutti quanti dite che si sente molto bene molto forte e chiaro e riprendiamo da dove abbiamo lasciato il 18 di giugno quindi è passato un bel po di tempo sono passati quasi quattro mesi c'è stata una lunga pausa chissà se avete tratto profitto da questa pausa allora maddalena buonasera maddalena buonasera serena buonasera serena buonasera daniela buonasera buonasera mariella terri lucia buonasera 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 Come ricorderete quelli di voi che hanno seguito tutta la prima parte del percorso, avevamo iniziato a leggere il libro Oltre l'Illusione, quindi per chi ce l'ha sotto mano riprenderemo a leggere da pagina 83. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Un minutino e partiamo. Lasciamo che, buonasera Guglielmo, lasciamo che i ritardatari si accodino. Abbiamo con noi, vedete, da questa parte qua, vediamo se riesco spostando il dito, qui, eccolo lì, questo qua è Roberto Setti che ci osserva nelle nostre letture. Buonasera a tutti. Allora, come sempre, all'inizio di questo video in diretta, ringraziamo l'ospitalità di Enrico Ballantini, che ci ospita su Focus, e l'ospitalità più particolareggiata di Anna Tamburini-Torre, che ha dato vita alla LUX, all'Università della Conoscenza, all'interno della quale si svolgono queste lezioni. Quindi, che si tratti di Focus 3.0, voi che siete collegati, ovviamente lo sapete tutti, ma siccome poi questi video vengono visti da altre persone che magari non si sono collegate, e magari sono viste anche in altre realtà, al di fuori del canale di Focus, ecco, allora è bene ricordare che sono lezioni che si svolgono all'interno di questa pagina Facebook, Focus 3.0 e il mistero della vita, e all'interno di Focus 3.0 e il mistero della vita, dentro la particolare area, spazio, denominato LUX, l'Università della Conoscenza, voluto da Anna Tamburini-Torre. Dunque, noi stiamo, già da un po' di tempo, lo dico per i nuovi, per coloro che non si sono potuti collegare prima o che scoprono oggi questa opportunità, stiamo leggendo l'insegnamento dei maestri e in particolare abbiamo letto tutta la parte filosofica del primo libro dei maestri del Cerchio Firenze 77, ovvero Dai Mondi Invisibili. Abbiamo concluso la parte filosofica, che è la terza parte dei libri del Cerchio, e abbiamo preso in mano il secondo volume del Cerchio Firenze 77, che è Oltre l'illusione. Questo è un volume veramente fondamentale, non che gli altri non lo siano, ma questo volume è un volume molto denso, dove ci sono tratteggiate le linee direttrici di tutto lo svolgimento successivo dell'insegnamento. Quando uno ha percorso tutto il percorso di studio proposto dai maestri, dalle guide del Cerchio Firenze 77, tornando a rileggere Oltre l'illusione, può capire come all'interno della parte filosofica di questo libro ci sia già descritto tutto in una forma molto ancora un po' acerba, perché naturalmente ancora non si sono fatti propri profondamente i concetti che sono esposti, ma sono già enunciati tutti, come se ci fosse già chiaro tutto il progetto didattico che le guide hanno svolto nel corso di quasi 37 anni di comunicazioni. Tutto quello che c'è prima naturalmente potete andarvelo a riascoltare collegandovi sul canale YouTube di Focus 3.0, oppure sono state messe queste lezioni riordinate per facilitare le cose a chi è uno studioso del Cerchio Firenze 77 sull'altra pagina Facebook, che è il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda. Quindi sono questi gli spazi dove potete trovare tutte queste lezioni che si sono svolte sul Focus 3.0. E quello che facciamo adesso è riprendere il discorso che abbiamo lasciato in sospeso quattro mesi fa. Non abbiamo iniziato allora dalla parte filosofica di Oltre l'illusione, perché abbiamo pensato allora, pensai che fosse importante introdurre, c'è una parte introduttiva che è la seconda parte dei volumi, di solito viene definito come l'insegnamento morale. Sono pagine molto belle e avevamo iniziato a leggere proprio quelle pagine lì. E quindi riprenderei da dove eravamo arrivati. Eravamo arrivati a pagina 83 e stavamo leggendo quello che ci comunicava la guida d'Ali. E qui si parla di lezioni che sono molto lontane nel tempo, perché questa in particolare è una lezione che si è svolta nel dicembre vicino alle feste natalizie del 1974. Questa lezione e le altre parti che vi leggerò stasera hanno molto a che fare con la morale e hanno molto a che fare con ciò che viviamo noi oggi. Credo che per riprendere il filo del discorso con i maestri sia importante entrare in contatto anche con questa parte qua. Quindi è Dali che si rivolge a noi e ci dice «Eccoci nuovamente riuniti». Sta parlando proprio a noi, eh? Riuniti, noi confidiamo nella ricerca della verità, animati da uno spirito di analisi, da una volontà di approfondire, di vedere il vero. Voi siete consapevoli che questo vero si chiama «insieme di punti di passaggio», che di volta in volta aprono nuovi orizzonti. Allora, io ogni tanto cercherò di fermarmi per commentare un pochino, ma questa cosa dei punti di passaggio è importante perché naturalmente, avendo loro ben chiaro questo progetto didattico, ci portavano fino a dei punti che erano presentati in una forma e poi ritrovando successivamente questi punti più avanti, la forma con cui venivano presentati cambiava. Ma cambiava in che senso? È che questi punti venivano ampliati, non mai contraddetti, non si trova mai una contraddizione nel percorso di insegnamento dei maestri. Di volta in volta si aprono nuovi orizzonti e gli orizzonti che ci sono già stati aperti con la lettura del primo volume non sono orizzonti da poco. Abbiamo parlato di eterno presente, abbiamo parlato del fatto che il tempo non esiste, così come noi lo sperimentiamo. Abbiamo parlato di molte cose che non sono difficili da capire, forse, ma non sono così facili da accogliere dentro di noi inizialmente. Bisogna piano piano fare uno spazio per riuscire a far entrare questi concetti così un po' lontani da noi. E come colui che è intento a camminare lungo il sentiero di tanto in tanto si volge indietro a guardare i luoghi che ha lasciato, così voi di tanto in tanto ripensate a quello che credevate prima di avere raggiunta e ampliata una verità e quasi, da quella che dovrebbe essere stata superata, siete tratti indietro. Come se un senso di nostalgia vi impedisse di abbandonare il vecchio punto di vista, di lasciare l'approdo che fu di salvezza ieri, di tentare nuove strade, nuove mete, di azzardare cammini ulteriori. Ma noi siamo qua per questo. Non siamo qua per rimanere ancorati alle nostre vecchie credenze. Questo lo dico, lo dice Dali, a noi lo dice in maniera molto morbida, da persona che ha visto, ha incontrato tante persone a vicinarsi al Cerchio Firenze del 77, devo dire che arrivano dei momenti in cui ci si sente quasi un po' intimoriti da quello che si sta scoprendo e ci viene veramente voglia di dire ma sì, forse non è il momento per me e mi sento di adagiarmi sulle cose che ho appena conosciuto o che erano il mio vecchio modo di pensare. In qualche modo ci difendiamo dalle cose nuove. Gli uomini tipicamente fanno fatica ad andare incontro al cambiamento. Tutta la nostra vita è improntata sostanzialmente a creare delle nicchie di comodità nelle quali ci adagiamo e a creare delle abitudini di pensiero. Sono molto comode per noi e ci viene da dire ma perché dobbiamo fare degli sforzi per muoverci da questo sistema mentale, sistema di pensiero che abbiamo costruito nel quale ci troviamo bene, tutto sommato, e perché dobbiamo correre il rischio di andare incontro a cose che ci possono scombinare un po' questa comodità che abbiamo creato. Ecco, invece i maestri vengono per questo, vengono per rompere le abitudini della mente e quindi è un viaggio fatto con molta dolcezza perché loro sono stati estremamente delicati, cauti nel proporre queste rivelazioni che talvolta sono sbalorditive e anche che travolgono un po' il vecchio nostro modo di pensare, però ci portano innanzi. È questo che facciamo qui leggendo l'insegnamento dei maestri. Noi siamo qua per questo, dice Dali, non per incitarvi a rimanere cristallizzati sulle vostre convinzioni, su ciò che credete, ma per distruggere giorno dopo giorno, giorno per giorno, ciò che voi credete. Questo significa nascere ogni giorno, questo significa rinnovarsi costantemente e come potrebbe essere diversamente, cristallizzarsi è morire, anche se siamo vivi è come se fossimo dei morti viventi che ripetono sempre se stessi, non fanno altro. Ne vediamo tante di persone che non fanno altro che quello che sono e ripetono la stessa cosa tutta la vita nello stesso modo, senza muoversi da dove sono e non accettano di spostarsi di un piccolo passettino. Qua invece è in atto una rivoluzione della mente. Cristallizzarsi è morire, segnare il passo. E cosa succede quando si segna il passo? Chiamare il dolore perché rompa la cristallizzazione. La vita è cambiamento. Nel momento che noi ci cristallizziamo arriva qualche cosa dalla vita che spezza questa cristallizzazione e lo fa attraverso il dolore. Cioè se noi non ci impegniamo con la nostra volontà per andare incontro al cambiamento, accettarlo, cercare di capirlo, sforzarsi di aprire la nostra mente alle cose nuove che vengono, ci costringe la vita a farlo. Ci costringe attraverso degli stimoli potenti perché se siamo fortemente cristallizzati ci vogliono grosse forze che devono entrare in gioco. Il dolore perché rompa la cristallizzazione, perché doni comprensione, quella che manca. Ecco perché vi diciamo siate nuovi ogni giorno. Ecco perché siamo qua. Perché lo scopo della rottura della cristallizzazione non è semplicemente rompere qualche cosa perché si è ormai troppo radicato e non si muove più, ma è quello di donare comprensione perché in questo viaggio dentro il cambiamento ciò che avviene è che comprendiamo sempre di più chi siamo e che cosa facciamo in questa vita e qual è lo scenario che è nascosto dietro le nostre cristallizzazioni, oltre le nostre cristallizzazioni. Abbiate dunque il coraggio di lasciare quei concetti che possono essere stati per voi di conforto, ai quali vi aggrappate per valorizzare la vostra sofferenza, la vostra vita, che costituiscono, credete, sangue del vostro sangue. credete, voi credete, sangue del vostro sangue e carne della vostra carne. Siate pronti a ricevere il nuovo, liberi, pensando che questo è il vero, il vostro preciso dovere, è quello che dovete fare, è lo scopo delle nostre riunioni. E qui è stato importante leggere queste righe per capire qual è proprio lo scopo anche del nostro trovarsi mensilmente per cercare di portare avanti questa lettura, approfondirla. C'è tutto il tempo di capire, perché noi, secondo quanto abbiamo stabilito con Anna Tamburini Torre, ci vedremo una volta al mese, non più ogni 15 giorni come facevamo prima, e quindi c'è un mese di tempo per rileggere e riflettere, portarsi avanti, maturare domande, cercare di capire. Intanto ogni tanto butto un occhio e saluto tutti quelli che si sono collegati. Continua Dali, è giusto che voi facciate il punto per chiarire le idee, ma quando si fa il punto, si fa un bilancio, si tirano le somme, come si usa dire, bisogna avere coraggio, non afferzionarsi a niente, vedere, direi, cinicamente che cosa, alla luce delle nuove analisi, delle nuove posizioni raggiunte, è ancora valido e che cosa è superato. Quello che c'è di bello e che può agevolarvi è che ciò che è superato non lo è in senso assoluto. Intendo dire che non vi è mai contraddizione fra ciò che vi diciamo successivamente è ciò che vi avevamo detto, ma sempre solo ampliamento, approfondimento. Quindi non si tratta, in definitiva, di rifiutare in toto certe verità che noi vi avevamo dette, a meno che voi non le aveste mal comprese, si tratta di approfondire, di vederle da una nuova luce più ampliata. Certo che se un concetto è stato da voi mal compreso, perché questo può accadere, allora se è stato svisato occorre abbandonarlo nell'approfondimento perché se ne scopre la falsità. Il senso falsato dal fatto che non era stato ben capito. Ma vedete, oltre che la facilità con quella a quale loro ci guidano, noi facciamo queste letture insieme, voi potete fare delle domande sulle questioni e insieme cerchiamo di dipanare la matassa. Ma quando così non è, ciò che voi venite a conoscere vi amplia ciò che conoscevate, ed il quadro che si presenta di fronte ai vostri occhi deve sempre di più lasciarvi stupiti e ammirati. adesso io salto un pezzetto di questa lettura, vado in fondo alla pagina, voi sapete quanto sia importante che l'uomo agisca secondo il proprio sentire, secondo la propria convinzione. E qui per chi si avvicina oggi per la prima volta ai nuovi amici dico di andarsi a leggere il primo volume per capire bene che cosa si intende consentire? La coscienza, quella particolare, il grado di coscienza che abita ognuno di noi e che sta dietro tutto il nostro agire. Perciò, come anche questa sera avete udito rileggendo le parole di Kempis, non dovete avere remore di ordine morale perché con la nostra presenza noi indirettamente abbiamo rafforzato e resi più validi i principi della morale. La morale è giusta nei confronti dei propri simili allorché serve a frenare un atteggiamento che potrebbe essere per quelli dannoso ma non nei confronti del proprio essere interiore. Questo è un punto che è veramente importante. Noi dobbiamo conoscere, sentire, avere, possedere una morale nei confronti di chi ci sta intorno, della società nella quale abitiamo perché questa morale ci sono una serie di regole, di comportamenti, di modalità tali per cui diventa un retto agire il nostro nella società. Ma per quanto riguarda invece noi stessi, via via che ci addientriamo a conoscere noi stessi, non dobbiamo avere delle remore di ordine morale per andare oltre. Noi speriamo sinceramente di essere da voi compresi e di riuscire a spiegarci in modo chiaro e fattivo perché vogliamo che un giorno guardando alle esperienze terrene voi diciate ho conosciuto l'amore degli uomini ed era possessivo ho conosciuto la loro amicizia ed era sfruttamento ho conosciuto il loro aiuto ed era umiliazione ho conosciuto la pietà degli uomini ed era degnazione la loro protezione ma aveva un secondo fine ho conosciuto la giustizia degli uomini ma era parziale la loro forza ma era brutalità la loro onestà ed era apparenza ho conosciuto la fede degli uomini ma era una prigione la loro filosofia ed era cenere la loro scienza ed era cecità ho conosciuto la compagnia degli uomini ma non mi riempiva tutto questo ho conosciuto e assaporato e restandone turbato ho compreso di non essere morto a me stesso essere morto a me stesso cosa vuol dire? questa è un'indicazione che viene spesso dalle guide morire a se stessi vuol dire in qualche modo superare ciò che ci spinge a stare nella vita sulla sulla base delle necessità di una struttura che ci costringe a vivere in un certo modo e che i maestri hanno definito io questo io è qualche cosa che ci spinge a vivere in un certo modo le relazioni con gli altri è ciò che ci spinge a sentirli separati da noi è ciò che ci spinge ad approfittare degli altri è ciò che fa tutte queste cose che sono state elencate in questo bel brano di Dali e che riguarda l'amicizia l'amore l'aiuto la pietà la giustizia la forza l'onestà la filosofia la scienza sono tutte cose che per come le viviamo noi sono improntate ai bisogni dell'io e questo non è che sia come posso dire una colpa cioè noi abbiamo un io questo io ci fa sentire separati dagli altri intorno a sé separati dall'ambiente in cui l'io si muove vive l'io è in costante necessità di accrescimento di affermare se stesso affermare se stesso nella vita e spesso affermare se stesso sugli altri e utilizzare tutte queste modalità relazionali che sono state appena descritte da Dali per i fini dell'io per gli scopi dell'io siamo fatti in questo modo stiamo scoprendo come stiamo fatti non c'è nessuna richiesta di essere altro da ciò che siamo c'è solo la richiesta di capire come funzioniamo ed è l'unico modo per avvicinarsi in modo utile a questa scoperta di noi stessi non giudicandoci ma osservando il nostro funzionamento vedere come funzioniamo noi siamo esseri del tutto imperfetti molto piccoli per tanti versi e capaci anche di cose belle e siamo un insieme di queste esperienze ma tutte queste esperienze sono connesse in qualche misura in modo positivo o meno positivo a questa struttura definita io che ci fa interpretare la vita secondo una determinata chiave di solito abbastanza egocentrata per non dire egoistica qui c'è un brano di Dali che è l'ultimo brano di Dali quindi io lo leggerei ci dice come migliorare la società in cui viviamo vorrei rivolgermi particolarmente a quelli che ci seguono solo attraverso la divulgazione di queste comunicazioni per dire loro bellissimo non siete degli sconosciuti se non avete occasione di partecipare direttamente a queste riunioni per noi non ha alcuna importanza non siete meno amati di quelli che ci seguono dalla viva voce in questa breve occasione che io ho di rivolgermi direttamente a voi vorrei dirvi tante cose che vi fossero utili vorrei dirvi che non ha importanza credere che l'uomo sopravvive alla morte del suo corpo quando poi nella propria vita si fa tutto l'opposto di quello che si dice di credere che non ha importanza credere a Dio se poi nella propria vita si fa un continuo insulto alle sue creature e quindi a Lui è importante ciò che sentite ciò che fate più di ogni affermazione di fede resa nel timore di un castigo celeste vorrei dirvi di amare di più i vostri figli almeno i vostri familiari i vostri amici i vostri conoscenti perché è vero che l'amore in se stesso è premio di chi ama vorrei dirvi che non è vero che gli insegnamenti fondamentali della morale riducano gli uomini dei gonzi i cosiddetti insegnamenti della morale insegnamenti mistici sono stati presentati agli uomini come un mezzo per guadagnarsi un premio nell'altro mondo questo errore di impostazione non è stato voluto dagli esseri illuminati che hanno rivelato gli insegnamenti di altruismo all'umanità ma è stato voluto ad arte escentemente da chi aveva interesse che le masse fossero remissive che ognuno facilmente rinunciasse ai propri diritti in favore di pochi privilegiati nessuno può negare che gli insegnamenti di altruismo non sono stati combattuti perché inducevano i singoli ad accettare la loro condizione di miserie e di ristrettezze senza creare problemi ai governanti ma se in passato tanto si è chiesto al singolo ben poco o addirittura nulla dando l'uomo di oggi non deve compiere l'errore opposto tutto esigendo senza nulla dare in questa vostra epoca di grande intelligenza e razionalità sembra che gli insegnamenti fondamentali della morale siano privi di logica e di valore pratico la società si vuole migliorare con nuovi sistemi e ideologie i cui fautori cercano consensi ognuno affermando di possedere il rimedio ai molti problemi che affliggono la società gli elenchi di problemi che ci fanno tutti i nostri politici nessuno è scluso uno dietro l'altro questi elenchi di tutti i problemi e poi e poi non vedete la società può essere migliorata e questo è il punto non ci sono uomini forti che possono migliorare la società vedete la società può essere migliorata solo se muta il singolo solo se ognuno si sente in dovere di fare e di condurre la propria vita con onestà con rettitudine in funzione della società in cui vive quindi non in funzione di se stesso secondo i bisogni dell'io ma in funzione della società in cui vive ecco la grande logica dell'insegnamento di altruismo ed ecco un insostituibile valore pratico che mira a dare coscienza al singolo di se stesso in rapporto alla collettività senza questa visione che è mistica e razionale al tempo stesso ogni ideologia è destinata a naufragare pietosamente troppo facile infatti sarebbe parlare della mancanza di buona fede in chi si presenta come salvatore della società e del divario che esiste fra ciò che viene detto e ciò che viene fatto vi accenno solo all'errore di impostazione che anche oggi è ripetuto e di cui vi dicevo all'inizio a proposito degli insegnamenti della morale ogni ideologia e ogni organizzazione che attorno ad essa si è creata mira a difendere certe forze certe categorie certi privilegi ogni parte difende i propri interessi cercando di ottenere sempre di più ebbene questo sistema non può per nulla migliorare la società in cui vivete la verità di questa affermazione è dimostrata dai fatti ripeto la società può cambiare solo se il singolo intende fare tutto intero il suo dovere condurre con rettitudine e onestà la propria esistenza solo così perciò questo credete quando insegnate ai vostri figli sicuri di dire loro l'unica cosa veramente costruttiva per se stessi e per un mondo migliore e credo che che abbiate potuto cogliere con queste parole un frammento della modalità con cui le guide ci parlavano a suo tempo ci parlano tuttora perché il fatto che non ci sia più Roberto Setti che fungeva da strumento per queste comunicazioni delle guide dei maestri non significa che le guide dei maestri si siano ritirati e non significa che questo nutrimento che viene da questa altra dimensione di esistenza non ci raggiunga e non ci sostenga queste cose che stiamo leggendo sono quelle che sono state dette nel buio delle sedute e sono state dette per chi era presente allora e per tutti quelli come noi oggi che le seguiamo ci possiamo riflettere sopra e crescere in queste quello che viene proposto è sempre la stessa cosa e cioè tu singolo hai il potere di operare un cambiamento ed è tutto quello che ti spetta fare è tutto il potere che hai fra l'altro non è che devi pensare di trasformare il mondo se non è una cosa che ti compete però sicuramente tutti quanti abbiamo vicini di casa abbiamo amici abbiamo fratelli e sorelle moltissimi di questi e con moltissimi di questi non abbiamo rapporti così facili e invece possiamo migliorare possiamo fare di più di quello che facciamo possiamo smettere di pensare in maniera assolutamente egocentrata a come interpretare la nostra vita ma possiamo pensare di mettere dentro il progetto della nostra vita anche gli altri e donare loro qualche cosa in una qualche misura e quindi fare qualche cosa per gli altri che significa fare qualche cosa per la società con la quale noi siamo in contatto noi saremo in contatto durante la nostra vita con qualche centinaio di persone non siamo in contatto con 7 miliardi di persone non abbiamo il potere di fare qualche cosa per 7 miliardi di persone ma per quelle alcune centinaia decine pugnello di persone che ci stanno accanto qualche cosa possiamo fare senza bisogno di grandi sacrifici però possiamo cominciare a pensare in questi termini perché tutta la parte che abbiamo letto dell'insegnamento precedente ci ha spinto a considerare questo fatto e cioè che il senso di separatività quel senso che ci accompagna per tutta la vita e che ci fa sentire separati dagli altri è qualcosa che è in parte strutturale ma che non è la realtà dell'esistenza perché abbiamo visto come è costituito il sentire abbiamo visto come si forma abbiamo visto che è una forma illusoria di esistenza quella che noi viviamo e che la realtà è diversa da questo e quindi possiamo provare anche a tradurre nella piccola realtà relativa nella quale noi ci muoviamo qualche elemento di quella più ampia realtà che già ci è stata descritta e che approfondiremo moltissimo con la parte di insegnamento filosofico di questo libro importantissimo adesso leggo alcune cose alcune cose che sono state scritte perché se devo dunque qui sono tutti i saluti vi ringrazio tanto dei saluti dice Raffaele è sempre il dolore il motore del cambiamento piacerebbe invece che solo per amore della conoscenza riuscissimo a rompere ogni forma di cristallizzazione è possibile questo? sì è possibile? beh innanzitutto bisogna amare moltissimo per riuscire a fare questo amare tanto la vita e ciò che la vita significa l'insieme di relazioni che abbiamo intorno a noi amare tanto non la vita comoda ricca di benessere di vacanza c'era un nostro caro amico del cerchio che non c'è più da tanto tempo ma che ha scritto dei libri importanti sul cerchio di Firenze del 77 che era Pietro di Urcimatti che solleva dire la vita non è una vacanza ma molti di noi vorrebbero che lo fosse ecco se abbandoniamo l'idea che la vita deve essere una vacanza che possiamo vivere abbiamo la fortuna di vivere in una società dove non manca quasi niente insomma diciamo siamo abbastanza fortunati da questo punto di vista ma possiamo fare molto di più per ciò che sta intorno a noi cominciare a far entrare questo pensiero dentro la nostra mente e questo è già un passo per cominciare a rompere quella cristallizzazione l'insieme delle cristallizzazioni che ci portano a interpretare la vita solo in un certo modo solo in un certo modo allora Francesca sembra scritto in riferimento alla manipolazione di questi giorni credo a tutte le manipolazioni perché però ecco anche qui cercate di più che pensare alle manipolazioni degli altri su di noi pensiamo veramente alle manipolazioni che noi facciamo a noi stessi per continuare a rimanere cristallizzati dove siamo qui si sta scorrendo un sacco di cose mi piacerebbe guardare i vari passaggi della mia vita realizzando che lo scopo principale del nostro dolore e immagino sia l'evoluzione spirituale ci conduca a sentire il nostro prossimo come noi stessi che tutto il dolore dell'universo non venga sprecato dal dai subdoli giochi di potere della manipolazione del male anziché avvicinarsi a fare i propri insegnamenti divini di amore perdono empatia avremo tutti bisogno di riscoprire la nostra vera essenza la parte divina è in ognuno di noi e ci relaziona al tutto non si può che essere d'accordo cercando di comprendere che io credo questo e dico come 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 mi sembra di avere un po' capito quello che ci dicono le guide o almeno che hanno che hanno detto a me hanno detto a me con i loro libri con le loro parole con i loro insegnamenti e cioè che il il vero unico responsabile della di quello che io sperimento nella mia vita è un sentire di coscienza ancora non così maturo da impedirmi di fare di avere dei comportamenti che non sono in linea con quel sentire di coscienza quando il sentire di coscienza non è sufficientemente maturo ecco che c'è un grande spazio per l'io e l'io ha i suoi bisogni ha soprattutto tantissime paure la paura di non avere abbastanza la paura di perdere quello che ha conquistato il desiderio di accrescersi per garantirsi ulteriori stati di benessere e di sicurezza si vive in una costante condizione di paura e le cose che vengono da fuori di noi non sono altro che lo specchio di quello che si agita dentro di noi io credo di aver capito questo sostanzialmente dalle guide prima di aspettate perché qui saltano prima di dedicarsi alla politica non so ha saltato tutto ah ecco i nostri governanti dovrebbero studiare i messaggi delle guide poi mettere in pratica beh ma se succedesse questo non farebbero i politici quindi non li avremmo per governanti ma anche lì vedete queste persone fanno hanno una vita oggettivamente non la vorrei per me insomma una vita di lotta di schermaglie di fatiche di vedete tutto questo questo confrontarsi aspramente in questo modo anche così brutto come lo vediamo questi ultimi proprio decenni è una modalità di vivere che è sicuramente molto penosa anche se queste persone non se ne rendono tanto conto perché probabilmente sono come immerse in un sogno ma quello che deve interessarci è perché io io non loro perché io mi devo confrontare con questo con questa qualità di presenza nella mia vita che cosa che cosa mi vuole insegnare cosa mi sta insegnando e quale parte di me esprime almeno in piccola misura quello che vedo accadere lì davanti a me mi stanno mostrando qualche cosa che io devo imparare me lo stanno mostrando perché forse in me non riesco a vederlo e alle volte c'è bisogno che siano così eclatanti certe cose perché io proprio sono molto cristallizzato e non riesco a uscire da questa lettura che ho di me e quindi devo guardare fuori di me quello che non riesco a vedere dentro di me è un esercizio molto utile osservare tutte queste cose da questo punto di vista allora dice Maria Luisa io sono stufa di soffrire anch'io che sia o meno evoluzione non sarò matura abbastanza in realtà nessuno di noi sa quanto è o non è maturo dal punto di vista diciamo evolutivo la coscienza alle volte spiegano i maestri che viviamo delle vite molto molto faticose che sono quindi un nutrimento per la coscienza enorme ma non è che il dolore è lì perché ci vuole in qualche modo punire è che alle volte solo attraverso certe esperienze non riusciamo a comprendere alcune cose che altrimenti non riusciamo a comprendere quando veniamo privati di qualche cosa riusciamo a capire cosa significa privare gli altri di alcune cose o avere comportamenti che determinano quegli effetti poi abbiamo letto tutti nel libro precedente il funzionamento del karma la sua funzione come funziona abbiamo letto tutto quello che riguarda le incarnazioni e le reincarnazioni ci torneremo e approfondiremo in questo nuovo volume ma questo ci dovrebbe far leggere la nostra vita attuale come il frammento di un percorso noi siamo consapevoli adesso di un pezzettino di questo percorso di un essere che va dall'atomo di coscienza quindi proprio una cosa molto piccola fino a una coscienza matura al punto tale da lasciare questa esperienza da incarnato per fare un altro genere di esperienza che viene poi descritto più avanti dalle guide e quindi bisogna anche quando siamo nella fatica ricordarsi effettivamente chi siamo non solo come essere incarnati in questo momento ma come porzione di un progetto molto più ampio e che abbiamo avuto altre fasi e altre molte ne avremo e che questo in qualche modo ci deve far comprendere ci deve far trarre il massimo profitto dalle esperienze sia le esperienze positive perché le vite non sono mai completamente esclusivamente il dolore ma quelle positive chissà perché ci dimentichiamo che esistono direi direi che dato che c'è ancora qualche minuto vi vorrei introdurre a quello che saranno le prossime letture la prossima lettura che faremo riguarderà il maestro Campis perché nella parte centrale del volume ci sono radunate alcune comunicazioni fatte dalle varie guide e di solito ci sono radunate al centro di questi libri le comunicazioni di Dali che abbiamo appena terminato stasera quella di Campis e poi di solito c'è anche una comunicazione di Claudio che è quella voce quella guida che ci sprona a conoscere in maniera più approfondita noi stessi cioè il funzionamento del nostro io Campis è il filosofo del cerchio e si può dire che quasi tutta la parte filosofica di questo libro che stiamo iniziando ad affrontare è quasi tutta sviluppata da Campis che è il grande logico dell'insegnamento del cerchio di Firenze 77 è un grande piacere per chi ha una mente razionale lasciarsi catturare dalle parole di Campis anche perché Campis non di rado sfocia da questa logica assoluta perfetta inattaccabile meravigliosa sfocia dentro un afflato mistico soprattutto in conclusione delle sue lezioni che è veramente straordinario sarei tentato di iniziare la lettura sarei tentato di iniziare la lettura di questa una paginetta e mezzo io ve la leggo perché così ci lasciamo già con Campis e ci proiettiamo nel prossimo mese che verrà con queste parole parla qui dell'immaginazione e dice quando Dio cacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre dopo aver condannato l'intero genere umano alla fatica e al dolore fu colto dal dubbio di essere stato un tantino severo e pensò di rimediare facendo agli uomini un dono egli disse quando i giorni vi attenderanno l'uno dopo l'altro con il loro carico di fatica e di monotonia quando umiliati dai potenti sarete costretti a servirli ad imbandire le loro tavole cibandovi delle briciole che da esse cadranno quando chinerete la testa nella prona condiscendenza di chi può permettersi solo di assentire quando vi percuoteranno e voi dovrete sorridere perché non potrete fare altro ecco allora io vi manderò in soccorso l'immaginazione immaginazione magica facoltà è il sale della terra il colore del mondo che cos'è la vita senza l'immaginazione una realtà senza poesia un sonno senza sogni la morte chi potrebbe sopportare una vita di fatica e di stenti se non potesse immaginare di essere un re chi resisterebbe alle situazioni più disperate e senza via d'uscita se non potesse evadere sul filo della fantasia con l'immaginazione eccola l'amica dell'uomo colei che lo riscatta da un'esistenza brutale e lo cinge del certo dei poeti è lei che abbellisce la vita lei che nutre l'arte e crea la civiltà perché è potere creativo che cos'è il genio se non immaginazione controllata dalla ragione gli uomini privi di immaginazione non compiono mai nulla di bello perché non sanno andare oltre la pochezza del loro essere ma tanta benedizione non poteva essere data l'uomo se non avesse potuto trasformarsi in una droga pericolosa l'immaginazione è come una lente che ingigantisce la visione di chi vi si guarda attraverso se la si usa abitualmente non si sa più distinguere la realtà concreta dalla fantasia e chi la adopera senza controllo è come se cavalcasse un indomito cavallo senza redini e speroni tutto ciò che essa immagina lo crea e ciò che è creato esiste anche solo nella mente in questo modo rende credibile ciò che non lo è e per questo molte delle cosiddette tragedie della gelosia in effetti non sono che tragedie dell'immaginazione se con essa guardate i vostri simili potete farne dei santi o degli assassini e quando l'associate al richiamo sessuale che qualcuno esercita su di voi cadete perdutamente innamorati chi può dire la vera grandezza di Carlo Magno o di Giulio Cesare i dividi vengono idolatrati quando riescono a colpire l'immaginazione delle folle a me vengono immediatamente un sacco di esempi immaginare è sinonimo di inventare e inventare può voler dire ideare o mentire qual è la regola esatta per usare l'immaginazione l'immaginazione non va adoperata nei confronti dei propri simili né delle relazioni che con essi si hanno perché potrebbe trarre in inganno ma è preziosa nella comprensione della realtà sì perché l'immaginazione non appartiene alla fantasia a fini pratici l'animale che trova sbarrata la strada che lo conduce al cibo muore di fame se non immagina un percorso diverso quale delle scienze applicate e perfino delle scoperte scientifiche non dobbiamo all'immaginazione voi vivete in un'epoca di grande progresso scientifico eppure siete dei rinunciatari nei confronti dell'immaginazione la creatività dell'uomo medio di questa civiltà sta nel seguire la moda nell'imitare le azioni altrui nel imitare le azioni altrui perfino il lavoro non è che una ripetizione meccanica di operazioni che nulla lascia all'inventiva del singolo beati coloro che possono abbellire la loro esistenza con qualcosa che viene da loro stessi dalla loro creatività intesa non come operosità ma come inventiva tuttavia molte volte anche chi ha questa possibilità non la mette in atto proprio per mancanza di immaginazione l'immaginazione è una facoltà superiore della mente che vi aiuta ad ipotizzare una realtà nella quale i fatti che accadono nel mondo che vi circondano trovano una logica collocazione ma soprattutto una convincente spiegazione una siffatta realtà è sempre stata ipotizzata ma nessuno ha mai saputo vederla nella sua interezza perché nessuno ha mai saputo immaginare nella misura necessaria quando noi vi parliamo di questa verità da noi conosciuta per esperienza diretta contiamo sulla vostra immaginazione questa sola può essere mediatrice di un colloquio fra noi e voi mediatrice della comprensione del mondo nel quale vivete mondo in cui nulla veramente è come appare noi stimoliamo la vostra immaginazione ma questo non significa che vi invitiamo a fantasticare fantasticare è cavalcare l'ippogrifo dei poeti senza tener conto dell'orientamento immaginare è congetturare ideare partendo da dati concreti il vostro mondo non è che immaginazione della realtà che vi circonda perfino la visione ottica è immaginazione ve lo rileggo questo piccolo questa piccola tre righe perché è fondamentale si rifà a quello che abbiamo letto fino ad oggi e verrà approfondito molto il vostro mondo non è che immaginazione della realtà che vi circonda perfino la visione ottica è immaginazione e qui vi devo dire a causa degli studi scientifici che io ho fatto la mia formazione scientifica che se voi prendeste un libro di neuroscienze per capire come accade che l'occhio raccoglie delle frequenze di luce e le trasforma in immagini dentro al cervello potreste capire che non è una cosa come dire un discorso così un po' forzato quello di Campis è proprio realtà voi costruite ricostruite nella vostra mente gli oggetti con l'immaginazione senza l'immaginazione la percezione degli stimoli luminosi non si tradurrebbe in immagini e non vi sarebbe comunicazione a meno che non vi fosse comunione attraverso all'immaginazione voi vedete le immagini dal cervello fisico passano al corpo astrale da qui nella mente in cui sono ricostruite con l'immaginazione da qui la comunicazione dal grossolano al sottile dunque mentre con l'intuizione la via è opposta nell'intuizione è la comunione della parte più sottile del vostro essere con una realtà che vi dà la consapevolezza di essa se dunque noi dobbiamo parlare dell'esistenza successiva a quella attuale noi dobbiamo parlare di intuizione ma solo un uso controllato e ragionevole dell'immaginazione può aprirci a questa esistenza successiva e con questo avendo detto la cosa per voi più importante posso terminare il mio pane girico sull'immaginazione e questo è il meraviglioso campis che ci portiamo con noi per questo mese che ci separa dal nostro prossimo incontro dalla nostra prossima diretta siamo arrivati a pagina 91 sulla pagina facebook che vi citavo prima e cioè il cerchio Firenze 77 una storia vera divenuta leggenda Nicola Ferrentino mette per chi non ha a disposizione i libri mette i testi che leggeremo la prossima volta partiremo da pagina 91 di Oltre l'Illusione lui metterà alcune pagine di Oltre l'Illusione che voi potrete quindi già leggere e potrete anche leggere le pagine precedenti perché lui li mette come materiale a disposizione per leggere quindi avete tutto il tempo per approfondire un pochino e anticipare quello che leggeremo allora non è la mentela non credo proprio il corpo esiste la materia esiste non ho capito cosa vuol dire non è la mentela certo ma aspettate forse devo leggere qualche cosa prima allora allora Maria Luisa un secondo dolore un secondo di dolore sembra un'eternità so che si cresce così ma è dura Raffaella chiede Campis il filosofo e Dali che rappresenta Dali era questa è considerato il padre il padre questa voce molto paterna accogliente che apriva le sedute diciamo la guida spirituale della cerchia proprio potremmo dire forse la figura che viene immaginata da noi da alcuni di noi come una figura molto vicina a questa coscienza cosmica che ci parla ecco diciamo così una voce assolutamente amorevole ma io conto andando avanti di riuscire anche a farvi sentire ogni tanto proprio le voci dei maestri in diretta che dicono qualche cosa e che noi magari poi commentiamo in qualche modo la lamentela non fa altro che accresce il dolore proprio a livello energetico accade questo Enrico grazie grazie a te Enrico Ballantini Maria Luisa della Torre non è una ventena non credo proprio il corpo esiste la materia esiste il dolore quello vero bisogna viverlo a meno che non si sia illuminati ma nessuno di noi lo è guarda noi se io sono illuminato dalla lampadina che c'ho sopra la testa l'unica cosa che mi illumina ti devo dire dobbiamo semplicemente capire che ciò che incontriamo è ciò che ci serve nel momento in cui lo incontriamo e spesso non ci piace incontrarlo Maria Luisa sì che Einstein diceva che la materia in quanto tale non esiste ma in quanto per città dei recettori sì sì certo certo la materia è tutt'altra cosa da quella di cui noi facciamo esperienza ma questo non c'è neanche bisogno dei maestri vero è proprio ormai più che conosciuto e acclarato bene vedo che ci stiamo tutti salutando c'è Maria Vittoria ciao Maria Vittoria e tutti gli altri io vi ringrazio che siamo stati insieme ci rivediamo oddio adesso non ho non ho con me non mi ricordo esattamente quando ma mi pare è possibile che sia tipo il 3 di novembre vorrebbe da dire questo però ho chiuso l'agenda quindi ora che la apro lasciamo fare ma sarà sicuramente un venerdì sera credo il primo venerdì sera di novembre quello ci sicuramente ci rivedremo lì e e ripartiremo da dove siamo arrivati ci leggeremo Campis queste bellissime lezioni di Campis che ci preparano la parte filosofica per la quale suggerisco a tutti di rileggersi la terza parte del volume dai mondi invisibili perché senza quello non si potrà procedere bisogna averci molto chiaro quella parte lì quindi studiate perché questa è l'università della conoscenza e all'università almeno un pochino bisogna studiare va bene un caro saluto a tutti di rileggersi